Pietro Porcinai è il più grande architetto del paesaggio italiano del XX secolo. Scopriremo la sua figura subito dopo la sigla. Pietro Porcinai nasce a Settignano nel 1910 ed è una presenza imprescindibile nell'architettura del paesaggio italiana del XX secolo. Fin dai suoi interventi negli anni 30 sulla rivista Domus, diretta da Joe Ponti, Porcinai esprime idee innovative e rivoluzionarie. Porcinai parla del paesaggio come di un bene da tutelare di fondamentale importanza. Egli dice che il valore di una società si esprime dal tipo di paesaggio che riesce a creare. Infatti una società che non rispetti la natura non rispetterà neanche la natura umana. Egli auspica che l'Italia sia un giardino diffuso a partire dai giardini privati e propone quindi di incentivare la ristrutturazione e la cura dei giardini dei privati attraverso delle detrazioni fiscali. Chiede quindi che i privati siano incentivati a prendersi cura del proprio giardino e se pensiamo che i primi sgravi fiscali per la ristrutturazione dei giardini sono stati introdotti in Italia nel 2018, si capisce come Porcinai fosse in anticipo sui tempi di molti decenni. Per Pietro Porcinai il grande male dei nostri giorni consiste nell'adorazione dell'utile, del profitto. Il giardino invece è inutile, non produce nulla, spinge piuttosto alla contemplazione e per questo in realtà esso è capace di creare. Porcinai quindi darà sempre vita a giardini che ispirino pace, equilibrio, armonia e siano un mezzo per elevare lo spirito umano. Nei suoi giardini prediligerà quindi forme geometriche e chiare, l'uso della pietra e di elementi costruiti, piante sempreverdi dalla struttura ben definita, con un uso parco dei fiori. Si tratta degli elementi classici del grande giardino italiano che Porcinai riesce a far rivivere e a declinare in forme moderne. Grazie alla sua conoscenza del paesaggio italiano e alla sua capacità di entrare in simbiosi con i luoghi in cui si trova ad operare, giardini dall'impianto classico assumono una veste contemporanea e moderna. Ecco quindi la grandezza e l'eredità di Pietro Porcinai, l'impegno per la tutela dell'ambiente e il miglioramento del paesaggio e far rivivere i temi alla base del grande giardino italiano trasponendoli nella contemporaneità.